Sessione Esatto Spirit Box L'ho premato con una foglia Eh perchè è riuscito a far freddo Si, sta tramontando il sole tra le altre cose Noi ci siamo messi davanti al... Li vedono? Si si, ci vedono Ci siamo messi qua davanti Perchè comunque il rituale è stato fatto qua Ci sono parecchi lumini No parecchi, veramente c'è solo... Per terra All'entrata sono rimasto Il tappeto che dentro c'era stata la... Adesso non ho capito bene se è una capra o un... Ma dovrebbe essere una capra in teoria O un caprone, vabbè Comunque è stato spostato Qui continua a brillare tra le altre cose E Tatiana sta tramando come una foglia Fa freddo ma non così tanto da dire Oh, sto tremando Adesso faremo una nuova sessione Anzi, non posso Perché mi siete... Oh no, strano No, non ci credo ragazzi Allora, provare a accertarlo Adesso funziona No, nel video di prima Vi siete accorti che questo cosa ho smesso di funzionare Io non mi sento tanto bene Ad un certo punto adesso funziona Vediamo Vediamo Grazie a tutti ciao ragazzi siamo qua al cilitero di darola volevo farvi vedere una cosa che abbiamo trovato appena siamo entrati verso l'altare questo brilla sta brillando ancora beh io vado vado allora bisogna stare attenti ok questa qua è una bambola chiamata aspetta legge il foglio perché hanno lasciato anche un foglio al fianco allora sta brillando di brutto questa è gadova è stata creata per fare rituali satanici si chiama gadova c'è anche non so perché c'è scritto godoba punto gdb 666 se fai un rituale scrivi qui sotto quale noi avventurieri siamo stati qua se vuoi lascia una firma col tuo nome ti seguiremo forse non portare via la bambola ecco ok chiamo allora questa cosa assai inquietante si inquietante però però nello stesso tempo come dice tatiana potrebbe essere fatto da ma dei ragazzini magari sì perché io non penso che una persona si prenda la briga di mettersi lì fare un rituale prendere lasciare il bigliettino come se fossi una scuola questo io non so come si funziona fare gli rituali o queste cose qua ma non penso proprio cioè almeno mi rifiuto di credere che ma poi scrivere il bigliettino in questo modo non credo proprio comunque poi magari tutto è possibile per carità tutto è possibile adesso noi faremo una sessione noi ci siamo messi davanti al sì sì ti vedono ci siamo messi qua davanti perché comunque il rituale è stato fatto qua ci sono parecchi lumini no parecchi veramente c'è sì no ma a parterre ho visto che c'è un pocento di roba all'entrata sono rimasto il tappeto che dentro c'era stata la adesso non ho capito bene se è una capra o un ma dovrebbe essere una capra in teoria o un caprone vabbè comunque è stato spostato qui continua a brillare sono tremando come una foglia e tatiana sta tremando come una foglia fa freddo ma non così tanto da dire adesso faremo una nuova sessione anzi non posso strano no non ci credo ragazzi allora provare a cercare nel video di prima vi siete accorti che questa cosa ho smesso di non mi sento tanto bene ad un certo punto adesso funziona vediamo ok c'è qualcuno qua che ci può dire che tipo di rituale è stato fatto c'è qualcuno qui con noi si sente si sente in un modo strano non lo so come mai ha detto qualcosa ragazzi eh amore c'è stata una nebbiolina dove è vicino a me ha detto anche qualcosa con il pietro in senso della nebbia io sono lontano dalla videocamera cosa ti ho detto vuoi vicino anche l'istrumento per favore questo qua nero qui in mano di nuovo ancora sta parlando dice qualcosa sta parlando dice cosa ho sentito una voce di una donna l'hai sentita c'è una donna qui a che cosa è servita questa bambola sangue perché è sangue perché è sangue sta parlando sta parlando si sta parlando sei vicino a tatiana ho detto salve o taci taci che cosa succede se continuo a parlare ti dà fastidio cosa puoi ripetere per favore sangue continua a dire sangue è stato ucciso un animale per fare questo rituale perché ha detto sì ha detto sì sei dire il mio nome Sai dire il mio nome? Perché non lo vuoi dire? Ti puoi avvicinare allo strumento che ho in mano? Se mi ha detto qualcosa non ho capito Toccalo, tocca lo strumento che ho qua davanti in mano, per favore Puoi farlo? Aspetta, senti una rifletta qui Si è illuminato, vero? Gulliver Cosa mi ha detto? Gulliver No, è umido No Sei là sopra dove è umido E' lì che ti nascondi Sì Quindi sopra la testa di Tatiana Ripeti Sei sopra la testa di Tatiana? Ma io tu vuoi farlo Sembra che abbia detto sì Ti do fastidio se ti parlo? Beppe, l'ho sentito Ragazzi, ha fatto un botto in alto, non sto scherzando Era sopra, vero? Puoi rifare un rumore? Ti è dato fastidio quando ho detto Ti do fastidio se ti parlo? Se sei stato tu a fare quel botto Puoi rifarlo ancora una volta, per favore? Puoi manifestarti in qualche modo? Attraverso la videocamera? Ha brillato? Eh, non l'ho visto Cavolo C'è stato un momento Che io non mi sono sentita per niente bene Quando sono andata qua, te lo giuro Lo sai che se ti avvicini A questo strumento Vicino a me E ci parli Potremmo sentirti Vieni a dirci qualcosa Ho visto il cambio di luce No Fai brillare questo strumento qui in mano, per favore Lo puoi far brillare? Per favore Hai sentito? Sì Mio Dio Sei tu che fai questi rumori? Amore, è passata una nebbiolina enorme Ok, ok, ok Calma, calma, calma Beppe, sei illuminato fino al rosso? Ma io cos'è? Oh, le allucinazioni? Cioè, i brividi nelle orecchie? Sei tu questa nebbiolina? Più che altro si bottino Non è normale Puoi farlo di nuovo? Ti puoi manifestare? C'è qualcosa lì, secondo me Dovente te Dove? Lì Qui C'è la videocamera che mi segna qualcosa di strano Cioè? Tipo cosa? Beppe? Se sei vicino a Tatiana Puoi far brillare lo strumento vicino a lei Ok, ragazzi Adesso spero che tenga la videocamera Perché la prima batteria mi si sta per scaricare Noi pensiamo che comunque qua qualcosa c'è Adesso non so se tramite il video O tramite lo Spirit Box Si sia sentito qualcosa Noi due botti li abbiamo sentiti Noi due botti li abbiamo sentiti Io ho anche piazzato un microfono a parte Alla videocamera Spero che funzioni Detto questo Vi diamo un saluto da Tati e Beppulso Dai Ghost Darkestream Io vi auguro un felice Natale Anche se è un po' di ritardo E un felicissimo anno nuovo, ragazzi Vi faccio gli auguri da parte da me e Tatiana Tanti auguri, ragazzi E tanti auguri a voi E soprattutto alle vostre famiglie, ragazzi Ciao Ciao ciao